un saluto come state ben ritrovati come va cosa fate stasera scrivetelo qui sotto nei commenti io casa tranquillo tv si riposa in una bella settimana in un bel weekend vi invito come sempre a iscrivervi qui in questa zona sul logo di milanello lasciate un bel like commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista un paio di indicazioni la prima è che qui sotto nel link in descrizione trovate se vi va anche il link per iscriversi al mio canale personale in cui parlo di tutto milan inter juve tutte le notizie più clamorose di giornata il mio profilo instagram andrea longonico svs se volete seguirmi c'è anche ovviamente il profilo di milanello e poi lo store di milanello per i prodotti questa è la felpa ci sono le magliette adesso che arriva il caldo vi consiglio se volete farvi un regalo fare un regalo la maglietta di milanello qui sotto c'è il link un video dedicato al mercato le quattro news di mercato format che ogni tanto riproponiamo e che sarà ovviamente più frequente più andiamo avanti più ci avviciniamo alle temperature con le mezze maniche e ovviamente il calcio mercato che è bollente prima di entrare in dettaglio sul mercato però facciamo gli auguri è periodo di compleanni abbiamo fatto oggi gli auguri a florenzi facciamo gli auguri anche a camarda che ha meno della metà degli anni di florenzi 15 anni il giocatore della primavera del settore giovanile che sta facendo molto bene sta facendo paralisa da tanto tempo 45 con la partita anche recentemente ebbene lui è uno dei nostri sarebbe bello l'auguro che gli possiamo fare di restare al milan per per vent'anni di diventare una bandiera e dovesse arrivare sarebbe bello ricordare come comunque ne parliamo da quando aveva forse 13 anni neanche 14 ovviamente il percorso davanti è complicato è ricco di distrazione difficoltà step da fare però speriamo di accompagnarlo con i colori rossoneri nella sua crescita oggi ragazzino 15 anni tanti 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 auguri a camarda andiamo sul discorso mercato con le quattro news ecco non è una news che rientra nelle quattro però volevo fare un aggiornamento anche su che sì che ha parlato al mondo deportivo in spagna dopo le voci che lo vorrebbero all'inter e sono dei contatti certificati questi sembra frenare sembra dire no io voglio restare qui mi vedo qui a lungo è stata decisiva la chiamata di xavi voglio dimostrare quanto valgo ora sono più felice effettivamente sta trovando più spazio sembra che piano piano stia provando a svoltare ha fatto un'ottima partita in coppa del re contro real madrid propiziando un autogol e andando vicino a un gol che gli aveva tolto sulla linea un compagno e il mio augurio che possa restare lì davvero a lungo perché personalmente mi dispiacerebbe vederlo con la male dell'inter ma questa frase ci crediamo oppure no ricordando quando diceva torno il sistema tulto luglio di un anno e mezzo fa e poi è tornato non ha sistemato niente però ha vinto lo scudetto quanto meno vediamo lui dice mi vedo qui per tanto tempo è vero che però i contatti nelle ultime settimane tra tangana suo manager che abbiamo purtroppo imparato a conoscere e l'inter sono stati frequenti magari ha visto la gara con lo spezia detto chi me lo fa fare questa è una battuta o una battutaccia a seconda dei punti di vista andiamo sul mercato allora partiamo da dietro e andiamo avanti da dietro abbiamo ricevuto ulteriori conferme sul fatto che il milan sia nella corsa ed è non è una corsa 2 una corsa con tante pretendenti per emanuele valeri terzino italiano di 24 anni nato a roma alto 180 che gioca nella cremonese contratto in scadenza giugno quindi parliamo di un parametro zero che è in mano su cartellino e si può offrire a chi meglio crede io credo che siano settimane decisive non credo che valeri arriverà maggio giugno senza squadra 24 presenze due gol e due assist prima stagione in serie a molto buona ovviamente non resterà la cremonese c'è una corsa con quasi mezza serie a su di lui perché è interessante perché è un terzino di gamba trova anche gol e assist ripeto due gol e due assist perché è italiano e perché costa zero e non ti chiede un ingaggio elevato il milano segue perché deve fare un vice teo hernandez il desiderio è quello di far partire ballo tourè e il fatto che sia italiano un valore aggiunto noi come lista italiani siamo un po scarsi quindi bisogna guardare anche questo aspetto se prendi valeri non vai ficciare sul numero non vado le risposte a qualcun altro ed è un ruolo che secondo me lui può interpretare bene non si deve ambientare in serie a perché vive in questo paese è italiano come noi e quindi può essere davvero un'idea interessante il milano c'è ma ci sono anche altri club speriamo di poterlo prendere anche perché comunque teo hernandez non è uno che toccando ferro ti lascia tantissime partite da fare quindi può anche piano piano inserirsi mi sembra un'idea molto 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 interessante manuele valeri un altro parametro zero seconda notizia un altro parametro zero che noi abbiamo accostato al milan due tre settimane fa più tre settimane fa che due e che nelle ultime ore da la stampa tedesca è stato confermato e nuovamente avvicinato ai colori rossoneri è un nome che ve lo dico subito può non scaldare non è un colpo non sarebbe un colpo mediatico però va vista anche l'utilità le caratteristiche la duttilità e l'esperienza un giocatore che ha 27 anni tedesco alto 1 78 di mestiere fa il centrocampista ha il contratto in scadenza con il Dortmund quindi anche lui ce l'ha in mano e si può offrire c'è qualche club di premier ma c'è anche il milan ma mood da hood che quest'anno ha giocato poco appena sei gare in bundesliga per 205 minuti lo scorso anno 22 partite due gole quattro assist in bundes due in europa league quattro in champions con tre assist giocatore che nel Dortmund ha fatto 138 partite cinque gol e 16 assist precedentemente al mönchengladbach con otto gol e 17 assist in 86 partite due presenze con la nazionale tedesca e ripeto un giocatore duttile che può fare diversi ruoli può portare esperienza tante partite in champions league è un parametro zero secondo me potrebbe essere un buon rimpiazzo di bakayoko con caratteristiche diverse nel senso che io in estate mi aspetto due operazioni una importante che possa diventare il terzo titolare centrocampo e una tra virgolette secondaria perché uscirà bakayoko frank sa sorpresa potrebbe rimanere lo dicevamo ieri e poi c'è probabilmente un'uscita ad lì c'è il discorso povega da vedere comunque un terzo a centrocampo che manca quindi lui potrebbe essere il nome un po più lo profile per quanto mi riguarda per l'esperienza la competenza della nostra squadra mercato se pensano a lui e lo prendono chi sono io per dire no ovviamente non deve essere lui il colpo a centrocampo di cui abbiamo bisogno però giocatore secondo me interessante sottovalutato intelligente che può risultare prezioso la stampa tedesca lo ha costato nell'ultime ore nuovamente al minan che quindi secondo i colleghi tedeschi non si è sfilato dalla corsa al parametro 0 27enne Mahmoud Daud che nel pieno della sua maturità calcistica ci spostiamo in attacco con la terza e la quarta notizia ovviamente monitoriamo sempre con attenzione il nome di Matteo Reteghi in prestito al tigre fino a fine anno cartellino bocca 23 anni quasi 24 li farà tra un mese e mezzo alto 186 segue le 6 assist nel campionato argentino che verrà che verrà convocato dal da mancini quindi sono molto curioso di vederlo appunto in serie a ma andiamo su altri profili radiomercato accosta nuovamente il nome di un profilo secondo me molto intrigante colori rossoneri prima di entrare su questo profilo e sul nome nuovo faccio una premessa se si va avanti a giocare così quindi con le due punte ho la sensazione che il minan andrà a prendere due attaccanti uno alla girù più giovane quindi uno un puntero un riferimento in area un numero 9 alto bravo sulle palle alte forte fisicamente e uno che possa magari ruotare un po' attorno alla punta quindi con caratteristiche anche fisiche diverse un appunto un po' più di movimento che possa fare anche la seconda punta magari un po' più un lautaro martinez ecco che è una prima punta anomala perché intendiamoci mina giocano le due punte leao e girù poi c'è il trequartista che sta un po' più indietro brahim magari anche un po' più sul centro-destra come candidatura per la punta che sta un po' più attorno attenzione perché radiomercato torna a riaccostare ad accostare il nome di folarin balogun al milan giocatore di 21 anni nato a new york il 3 luglio 2001 inglese quindi extracomunitario altro alto 1 78 che nel rems in prestito dall arsenal e sta facendo molto bene il ligand con 25 partite 15 gol e due assist lui ha fatto anche sei reti in 11 partite con l'under 21 inglese il ligand una rete ogni 131 minuti cioè una rete ogni partita e mezzo molto buono giocatore che è esploso con caratteristiche ripeto fisiche tattiche molto diverse rispetto a quelle di girù noi dobbiamo portare un fatturato realizzativo notevole dobbiamo migliorare la quota gol lui un profilo interessante detto che ovviamente la parola ultima spetterà all'arsenal che ne mantiene il cartello però ci sono nuove conferme su questo profilo che a me non dispiacerebbe affatto il nome nuovo invece arriva dalla inghilterra è un giocatore di 21 anni brasiliano alto 1 82 che può fare la seconda punta la prima punta può fare all'esterno quindi è quello che potrebbe ruotare attorno sia nel modulo con due punte sia nel nel modulo con i due esterni e la punta il nome è quello di Joao Pedro non è quello che ha fatto tanti anni nel Cagliari della nazionale eccetera 21 anni brasiliano alto 1 82 contatto con il Watford 2028 scadenza quest'anno ha fatto 26 partite 9 gole 2 assist serie b inglese però ripeto a 21 anni lo scorso anno in premier league a 20 anni 28 partite 3 gole 1 assist l'anno prima 38 partite 9 gole 3 assist in championship arrivato dalla fluminense giocatore interessante che sembra possa crescere e che è finito sul taccuino di maldini massara e di moncada ovviamente l'appeal per un giocatore che arriva dalla serie b inglese non è straordinario però questo è uno che ha delle qualità davvero molto molto interessante potete studiarvelo su youtube con delle skills notevoli anche su youtube c'è sempre il meglio di ogni giocatore vediamo che cosa succede ovviamente ci sarà grande fermento a livello di attacco e seguiamo con attenzione anche questo nome Joao Pedro brasiliano che si ispira a un certo Ronaldo insomma mica male buon gustaio ditemi che cosa ne pensate ragazzi di tutti questi profili auguri ancora Camarda Valeri per me è un grande sì daud come aggiunta non sarebbe male e poi attenzione appunto a oltre che a reteghi Balogun e Joao Pedro che conosco sinceramente un po meno rispetto a Balogun e reteghi ditemi che cosa ne pensate iscrivetevi qui se siete dei cuori rossoni rilasciate un bel like iscrivetevi mi raccomando numerosi siamo quasi 90.000 iscritti commentate e se vi va qui sotto appunto ci sono i vari link se volete curiosare seguirmi seguirci andarlo sullo store eccetera 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 un abbraccio e viva al Milan forza Milano oggi più che mai domani ancora di più ciao ragazzi vi rimando al video precedente siamo Milanello 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 iscriviti iscrivici quello che pensi